Siamo in una epoca in cui siamo costantemente sommersi da contenuti video e ci troviamo di fronte a un paradosso. Oggi abbiamo una tale abbondanza di informazioni e di contenuti e una così grande scassità di tempo per vederli. Ogni giorno milioni di video vengono caricate su piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok, ognuno con l'ambizione di catturare l'attenzione di un pubblico sempre più distratto e sopraffatto. Ma se andiamo a fondo, cosa ci dicono veramente questi video? Spesso il messaggio è sempre lo stesso. Questa è la soluzione per avere successo. Oppure 10 modi per fare soldi con i trading, o con gli affitti, o con la patata. Insomma, un flusso continuo di guru e esperti che promettono risultati straordinari vendendo sogni confezionati in pacchetti attraenti. Faccio un disclaimer. Questo non significa che non esistano persone esperte che vendono le loro consulenze in pacchetti. Io stesso ho comprato e ne sono stato soddisfatto. Ed io stesso vendo questi pacchetti o persone che hanno seguito i corsi e sono soddisfatte. Ma quello che a me dà fastidio è la parola promessa. Dietro queste promesse, quanti di loro sono disposti a parlare dei loro fallimenti? Quanti sono disposti a mostrare la verità dietro le quinte facendo vedere la fatica, le notti insonni, le cadute? Il problema è anche dei contenuti. Sì, si ripetono 10, 100 volte da persone diverse ma in maniera diversa. Dalla ricetta famosa a come fare un dolce, una pizza, il make up, ma fino arrivare alla crescita personale del tipo come sviluppare una routine matutina efficace, 5 modi per migliorare la fiducia in se stessi, eccetera. E va a finire che io la mattina non mi alzo perché ho perso la fiducia in me stesso. Il problema non è solo nella ripetizione degli stessi concetti, ma nella mancanza di verità. Tutti vogliono parlare di soluzioni, di come fare, di come avere successo, ma pochi hanno il coraggio di ammettere i propri errori, di raccontare il fallimento come parte integrante del processo di crescita. In questo mondo fatto di video ci si preoccupa più dell'apparenza che della sostanza, più del numero di visualizzazioni che del vero valore del contenuto. Nel mio caso cerco di dividere e condividere ciò che è personale e professionale. Sui social racconto poco di quello che è personale e lo faccio nei canali personali. Nel mondo professionale ho canali ufficiali di Samuel Schiavo Filmmaker e non un Samuel Schiavo come persona, ma a volte le due cose si scontrano e si incontrano. Ed è stato difficile per me trattenere a volte l'emozione su qualcosa di negativo che ho passato sia nel mondo personale che professionale. E mi è difficile anche parlare di fallimenti, anche se per me la parola fallimento significa imparare. Quando vedi sui social persone che hanno di più, hanno successo e fanno questo e quello, ti fa sentire letteralmente una m***a. E per alcuni condividere qualcosa che non è wow, come vincere un Oscar, ma il premio dei video del mese alla sagra della cotoletta è considerato umiliante. Sarà una paura di giudizio. Ma poi il semplice fatto che condividere qualcosa di negativo secondo me viene percepito a volte come qualcosa di controproducente. Ad esempio, se dico e pubblico in un canale personale che ce l'ho a morte con chi guida di stato del cellulare e dovrebbero andare tutti in galera perché sono dei potenziali criminali, è visto come uno sfogo senza un messaggio risolutivo o positivo. A volte ci sta lo sfogo se riconosciuto come tale, è terapeutico e a volte nascono confronti costruttivi. Ma fissarsi solo su questi sfoghi diventa dannoso per chi pubblica o per chi ascolta o legge. Ok, mi sono un po' perso nei discorsi e questo ahimè è uno dei miei problemi, sebbene mi scrivo tutto. Altro problema, mentre la qualità di video cresce esponenzialmente, la nostra attenzione si sa si riduce, frammentata tra mille stimoli diversi. Ecco perché hanno successo i video brevi, i mille stimoli in poco tempo, quindi dopamina, agogo. Siamo diventati consumatori passivi di contenuti preconfezionati che raramente ci spingono a riflettere o a metterci in discussione. Ma c'è un'alternativa, possiamo scegliere di creare e seguire i contenuti che abbiano un'anima, che raccontino storie vere, fatte di alti e bassi, di successi e fallimenti. Possiamo decidere di privilegiare l'autenticità alla perfezione, la verità allo scoop. A me, ad esempio, ha fatto riflettere non un video, ma un libro. Un libro in cui sono scritte le interviste a 25 registi famosissimi. Questi registi parlano di problemi, di difficoltà, di non essere in grado di insegnare cinema o di aver fatto film che non hanno avuto successo per incapacità sia artistiche che finanziarie. Raccontano come hanno iniziato a fare il regista, chi per puro caso. Alcuni dicono che hanno avuto fortuna, altri perché hanno conosciuto Tizio e Caio. Lo dicono con sincerità e autenticità. Un libro così a me è piaciuto molto, perché ho capito cosa devo affrontare realmente con tenacia e dolore e non grazie a moduli di successo garantiti tramite dei video su YouTube. Perché alla fine, ciò che rimane davvero impresso non è il numero di video che abbiamo visto, ma la profondità delle storie che ci hanno toccato. E forse in un mondo fatto di video e poca autenticità è proprio questo il messaggio più importante da ricordare. Grazie a tutti.